Sottoscritto da Conf Cooperative Puglia, unitamente agli altri rappresentanti delle imprese e dei sindacati, il protocollo d'intesa con la Regione Puglia per le vaccinazioni in azienda. L'obiettivo è quello di estendere la capacità di erogazione dei vaccini contro il Covid-19 all'ampia fascia di popolazione rappresentata dai lavoratori, favorendo il processo di immunizzazione attraverso la collaborazione tra la Regione Puglia e le associazioni firmatarie in rappresentanza delle attività produttive con sede in Puglia. Conf Cooperative Puglia aderisce convintamente a questo protocollo d'intesa perché ha motivo di ritenere che attraverso le sue articolazioni delle unioni provinciali ma soprattutto delle federazioni e attraverso proprio una partecipazione attiva delle aziende come previsto nel protocollo si possa dar seguito all'impegno istituzionale che è tipico del mondo della cooperazione, cioè essere presente in maniera capillare sui territori ed esprimere delle competenze che sono anche di impegno civile e sociale come in questo caso. Del resto lo stesso Presidente Emiliano ha accostato una dimensione di cooperazione a quella della competizione che è tipica del mondo produttivo. Al tavolo per Conf Cooperative il Presidente regionale Piero Rossi che a margine dell'incontro ha sottolineato la natura adesione delle realtà cooperative che rappresentano degli importanti riferimenti economici e sociali e che anche in questo contesto continuano ad assolvere la propria funzione a beneficio della collettività. Attraverso le nostre organizzazioni, attraverso le nostre aziende siamo sicuri di poter rendere un servizio alla comunità. Abbiamo le cooperative che si occupano di persone in maniera dichiarata come per quelle che aderiscono a Federazione Sanità, abbiamo le cooperative che aderiscono a Federazione Sanità che erogano servizi sociosanitari e che potranno anche mettere a disposizione i loro professionisti, ma soprattutto abbiamo le cooperative che costituiscono grandi contenitori di persone, lavoratori e le loro famiglie.